La campionessa del mondo 2019 a slalom in questi metri finali del Vertical Nasego. Grande specialista come ricordavamo anche delle siepi, lei che ha vinto nel novembre 2019 insomma doppio appuntamento sia il mondiale classic sia il mondiale trail, eccola qui l'americana Grayson Murphy al traguardo del Vertical Nasego. Vediamo il tempo, siamo vicini a 40 minuti. Adesso prendiamo sempre rinnovazioni ufficiose qui al traguardo, vediamo il tempo di Murphy 40.04 ufficioso ma ovviamente ci rimandiamo ai tempi uffici.